uè non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dagli e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi la sfida più difficile di questo pacchetto è replay versus slime ci chiede di trovare uno gnomo nascosto tra tre punti ben precisi la segheria trucciolandia che è proprio questa un capanno che è questo è un albero di secchi che è quello lo gnomo dovrebbe trovarsi esattamente in un punto che non si trova dove diamine è lo gnomo non ci credo doveva essere su lì e non è su lì non ci sto credendo scusami se questo è l'albero di secchi se quella è la segheria trucciolandia e se questo è il capanno dov'è lo gnomo perché non c'è lo gnomo sotto le pietre potrebbe essere sotto le pietre ovviamente vi stavo trollando ovviamente dovrebbe potrebbe essere sotto queste pietre non è sotto queste pietre potrebbe però essere ragazzi sotto la passerella invece quindi voi dite non l'hai trovato no 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 è esattamente sotto la passerella non è sotto la passerella quindi eccolo lo gnomo eccolo qua ragazzi lo gnomo si trova esattamente qua quindi siamo vicino al capanno vicino alle cose e alla segheria lo gnomo aspetta che devo fare il vi la foto signori lo gnomo è esattamente qua io vi ringrazio per aver guardato questo video vi mando un bel pollicione in su grazie mille noi siamo in live su twitch iscrivetevi al canale fate cose ciao